Sbagliatessi Salute CCC Salute? ICC Voi siete? ICC Un gruppo Saluto ICC Mettete questo video su Youtube E come dico sempre No alla televisione spietata No a Quarto Grado A Melania Abbiamo il trapasso Paolini che viene paolinato Allora non si metta dietro Abbiamo purtroppo un problema di linea Dobbiamo ma io non anzo le mani Però d'altronde c'è questo trapasso Questo trapasso